Vorrei augurare una buona estate a tutta la comunità universitaria e in particolare alle studentesse e agli studenti di UniURB. Care ragazze, cari ragazzi, l'Ateneo sta organizzando la progressiva ripresa della vita universitaria in presenza, per cui spero di vedervi tutti presto in città. Ci auguriamo che da settembre le lezioni, gli esami, le sedute di tesi di laurea possano svolgersi nelle aule della nostra università. Come ovvio, le lezioni del primo semestre 21-22 potranno accogliere gli studenti in presenza in base alla capienza massima prevista per le aule. Il Covid purtroppo è ancora tra noi e per questo vi invito ad non abbassare la guardia e ad aderire senza paura alla campagna di vaccinazione nazionale, che è il principale strumento di cui disponiamo per combattere insieme la pandemia. A voi studenti che già fate parte della comunità di UniURB e a voi giovani che in questi giorni vi state iscrivendo ai nostri corsi di laurea, auguro di trascorrere un'estate serena. Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie.